Ci stiamo occupando del progetto di ADOC Puglia, informo, assisto, tutelo, ovvero informazione digitale sulla filiera alimentare, sulla etichettatura degli alimenti e quant'altro. In queste puntate stiamo cercando di illustrare il progetto, ma vedendo anche una serie di elementi. Abbiamo visto le caratteristiche del consumatore, le sue attitudini. Lo stiamo facendo con la dottoressa Silvia Bitritto, che è dottore agronomo. Quest'oggi parleremo della filiera, ossia l'insieme di tutte le attività che portano dalla materia prima al prodotto finito nelle mani del consumatore. Quindi questo grosso argomento, questa realtà, la filiera e quindi un po' in tutte le sue caratteristiche, in tutte le sue diramazioni, i passaggi, il controllo, le normative e quant'altro. Sì, appunto, la filiera ormai è al centro di ogni discussione, perché abbiamo detto che il consumatore è ormai molto attento a cosa porta in tavola. In cosa consiste la filiera? L'insieme di tutte le tecnologie e le risorse che vengono utilizzate, quindi gli input che vengono utilizzati in un'azienda per creare il prodotto finito, ma non solo per crearlo, ma anche per trasportarlo e distribuirlo. La filiera, quindi, può essere definita corta o lunga a seconda dei passaggi che interrocorrono tra la materia prima e il prodotto finito. Più passaggi ci sono, più la filiera sarà lunga. Va da sé che una filiera corta, ovviamente, avrà meno passaggi, avrà meno trasporto, non ci saranno spese particolari, può essere conveniente sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico. Perché, appunto, non vengono impiegati mezzi pesanti, non viene impiegata mano d'opera per il trasporto e tutto, insomma, diventa tutto a tutela anche delle piccole realtà locali. Passiamo, sempre parlando di filiera, appunto, ai passaggi. Come vedete, noi ci stiamo avvalendo di alcune slide che sono state, appunto, realizzate, prodotte da ADOC, proprio per meglio, come dire, dare un'immagine grafica degli argomenti che stiamo affrontando. Dicevamo, dottoressa Bitritto, parliamo di questi passaggi. Sì, allora, i passaggi, ovviamente, sono la produzione della materia prima, la trasformazione e la lavorazione della stessa, che non sempre avviene in azienda, quindi a volte viene trasportata e portata in altri centri di trasformazione. Poi c'è l'imbottigliamento packaging, nel caso dei cibi, perché, appunto, la filiera non è solo alimentare, tutti i prodotti hanno una loro filiera. Poi la ricerca tecnico-scientifica, che tende, ovviamente, a migliorare poi la materia prima, perché tutti i prodotti si evolvono. La fase logistica, quindi trasportare il prodotto in tutti i centri di distribuzione. E poi la fase di commercializzazione, quindi tutte le varie pubblicità, ovviamente per massimizzare la sua diffusione e il suo valore. E' importante, però, sono importanti anche i controlli, appunto, della filiera. Parliamone. Allora, per quanto riguarda la filiera alimentare, appunto, abbiamo due tipi di normative. C'è la normativa cogente, ovvero quella obbligatoria, che tutte le aziende devono avere per poter produrre, appunto, alimenti. E poi abbiamo quella volontaria, che, appunto, è facoltativa, però, rende l'azienda più competitiva sul mercato anche estero, non solo locale. Quindi, per quanto riguarda la normativa cogente, noi abbiamo la tracciabilità e la rintracciabilità. Che significa tracciabilità? Che tutti i passaggi che vengono effettuati nella produzione devono essere registrati e schedati. Quindi è possibile poi rintracciare, al contrario, il prodotto. Infatti, noi vediamo, per esempio, sugli alimenti c'è il numero di lotto. Il numero di lotto serve, appunto, a recuperare l'alimento nel momento in cui c'è un problema. Questo non solo consente una maggiore sicurezza per il consumatore, ma consente anche all'azienda di non rimetterci l'immagine e di poter recuperare soltanto il prodotto danneggiato. Quindi, sia il ritiro o il richiamo. Nel caso del ritiro, il prodotto non è ancora nelle tavole del consumatore, significa che il prodotto è ancora nella grande distribuzione, ma non sugli scaffali. Mentre nel richiamo è un po' più, diciamo, grave, perché significa che il prodotto è già stato potenzialmente venduto. Ecco, parliamo della normativa cogente HCCP. Allora, l'HCCP lo sentiamo sempre nominare. È l'acronimo di Hazard Analysis and Critical Control Point. Traduciamolo. È praticamente l'analisi dei punti critici di controllo. I punti critici di controllo sono quei punti della produzione nei quali è necessario effettuare dei controlli per evitare che la materia prima subisca dei danni o vi siano pericoli, rischi di tipo fisico, chimico o biologico. Quindi che ci siano contaminazioni biologiche, che ci siano, non lo so, vengano contaminate da sostanze chimiche, per esempio dei macchinari o fisiche, per esempio viti, bulloni, può succedere. E quindi questo è l'autocontrollo. E ovviamente in questo autocontrollo è anche previsto che ci sia un manuale aziendale nel quale vengono riportati tutti i dati dell'azienda, dei lavoratori, i locali, le attrezzature, gli strumenti, tutte le tarature degli strumenti che vengono utilizzati, nonché la descrizione e la destinazione dei prodotti. Ecco, stiamo parlando di filiera. Vogliamo parlare anche di alcuni aspetti, aspetti ambientali e socioculturali della filiera corta. Allora, abbiamo sempre sentito parlare di chilometro zero. È un termine che non si usa solo in ambito automobilista. Molto diffuso. Sì, esatto. È un termine che si usa per indicare un prodotto che è nato e poi è stato consumato esattamente nel territorio appunto in cui è stato prodotto, quindi che non ha fatto molti chilometri. Quindi non è un prodotto impattante perché non è stato trasportato. Ovviamente questo aiuta anche a eliminare il rischio di sprecare, quindi anche per quanto riguarda il packaging, che questo prodotto non deve affrontare grandi distanze, quindi può essere un packaging più semplice. E poi soprattutto consente la maggiore diffusione di prodotti biologici e quindi più genuini. Quali sono i vantaggi della filiera corta? I vantaggi della filiera corta, oltre alla questione ambientale ovviamente, c'è anche il fatto che venga conosciuta la realtà rurale del territorio. Adesso le piccole aziende sono sempre un po' in difficoltà di fronte alle grandi aziende o alle multinazionali. Quindi in questo caso consentirebbe ovviamente al consumatore non solo di avere anche una maggiore fiducia in quello che consuma, ma anche di conoscere appunto chi lo produce. Proseguono le nostre...